All'inizio del nuovo millennio una tecnologia conosciuta come realtà virtuale sarà diffusamente utilizzata. Essa permetterà a chiunque di esplorare mondi artificiali generati dal computer e al pari dell'immaginazione illimitata. I suoi creatori prevedono per essa milioni di utili applicazioni pratiche. Altri invece temo che possa diventare una nuova forma di controllo della mente. Controllo della mente All'inizio del nuovo millennio una tecnologia conosciuta come realtà virtuale sarà diffusamente utilizzata. Altri invece temo che possa diventare una nuova forma di controllo della mente. Controllo della mente 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 Grazie.